Isolarsi dal caso dell'inchiesta Dirty Soccer e gettare le basi per la prossima stagione in Serie B. Sono queste le linee guida del periodo per il Teramo che dal prossimo 10 luglio, dopo le rituali, visite mediche, sarà al lavoro sotto il sole di Rivi Sondoli, il centro individuato per la prima parte della preparazione estiva. In questa settimana ci saranno ulteriori arrivi, il DS di Giuseppe non si sbilancia, anche se nelle ultime ore sono trapelati nuovi nomi, specie per la difesa, quelli di Samuele Sereni, 27enne laterale sinistro lo scorso anno al Pavia e prima ancora alla Spal e al Rimini. L'altro è un nome già noto agli sportivi terramani, il 21enne difensore brasiliano Alan Emperer, accostato due stagioni fa ai Biancorossi, lo scorso anno è stato prima ad Ischia in Lega Pro, poi da febbraio al Livorno con una sola presenza, peraltro da debuttante, in cadetteria. Il giocatore è un centrale che all'occorrenza può essere impiegato anche come terzino sinistro. In attacco sono praticamente svanite le chance di riavere la patula, c'è qualche speranza per il capocannoniere Donnarumma, visti anche i bonuffici col Pescara. Mole di lavoro non indifferente anche per i tanti giocatori in scadenza. Sul fronte dell'inchiesta per la presunta Cumbin di Savona Teramo non si registrano sostanziali novità, neanche dopo l'interrogatorio fiume di sabato scorso da parte degli uomini della Procura Federale che hanno ascoltato Ercole Di Nicola nella sua casa di Morrodoro. L'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila ha risposto alle domande sulle vicende dell'inchiesta madre d'Irti Soccero sul calcio scommesse. Gli uomini della Procura si riservano di sentire di nuovo Di Nicola su Savona Teramo, partita per la quale, secondo l'accusa, egli risulterebbe come l'organizzatore della Cumbin su un mandato dei dirigenti teramani. Sempre che gli uomini della Procura ritengono necessarie le audizioni, non solo di Di Nicola ma anche del presidente Campitelli e il DS di Giuseppe, potendo accontentarsi, tra virgolette, dei fascicoli e del materiale raccolto dagli inquirenti della DDA di Catanzaro, anche se, data la delicatezza della vicenda, sembra inopportuno che Palazzi non voglia ascoltare direttamente i protagonisti della vicenda. In attesa di conoscere elementi più precisi su cui l'indagine si fonda, quel che è certo è che nell'ennesima estate di grande lavoro per la Procura Federale, dopo quella sul Catania, l'inchiesta sul Teramo ha grande priorità. E per venire incontro al lavoro di Palazzi, il presidente della Lega di Serie B, Abodi, ha ribadito di essere pronto a far slittare l'avvio dei campionati.